C'è una Bologna allegra, solare, godereccia. E c'è una Bologna inquieta, misteriosa, nera. Questa è la città che preferisce Fabrizio Di Marco, fisico, docente e scrittore pescarese. È in libreria il suo terzo romanzo, La visione del male, Todaro Edizioni. Un romanzo come questo, che richiedeva la presenza di una banda di criminali e di un'associazione a delinquere, ha trovato nella città di Bologna una sua naturale collocazione. In questo romanzo si parla del dark web, dunque anche dei pericoli della rete, ma di un mondo ai più sconosciuto e però è quel mondo dove si attinge proprio quando servono cose che non sono facilmente rintracciabili. Parlo di armi, parlo di droga, parlo comunque di un sommerso che viene utilizzato dalla malavita. Sì, infatti, diciamo, questo è uno dei due temi principali del romanzo. Dal momento che si parla spesso di dark web, anche nei programmi di cronaca nera, però sono davvero pochi quelli che lo conoscono bene o perché non ci sono mai andati oppure perché magari hanno sentito delle leggende metropolitane un po' non del tutto precise. Io ho deciso di ambientare lì le inchieste e quindi di documentarmi. Ho passato un anno a documentarmi sul dark web e quindi anche un po' così per far conoscere a chi l'ha soltanto sentito dire e per mettere in guardia un po' sui pericoli che ci sono nel lato più oscuro della rete. Un investigatore e un giornalista, i due principali protagonisti della visione e della male, due professionalità diverse e anche due caratteri molto diversi. Sì, effettivamente è così. L'investigatore privato, anche nei modi di agire, lui persegue un'indagine, un'inchiesta in maniera più tradizionale, è più legato a certi ambienti, a certe tecniche, le stesse che seguiva poi quando era in polizia. L'altro invece è proprio un giornalista e io ho inventato questa figura dell'indagatore del web anche perché lui, proprio per il fatto di dover seguire le sue piste nel dark web, è specializzato proprio nel lavoro di inchieste di ricerca su internet, oltre che poi naturalmente, diciamo, come fanno tutti i giornalisti per le strade e per le piazze della città. Mi prendo del tempo per documentarmi, per scrivere, ma poi perché c'è stata anche la pandemia che ha rallentato di due anni l'uscita del libro, insomma, e quindi mi è dato occasione di prepararne quasi completamente un altro che è già quasi pronto, insomma. Possiamo dare qualche anticipazione? Allora... Sempre Bologna? Sempre Bologna, è una sorta di seguito della visione del male, però è ambientato in un ambiente completamente diverso, però non voglio spoilerare, ecco.